Che tu abbia o no afferrato interamente quanto aurora ti è stato detto, non respingerlo come impossibile a comprendersi, poiché in ogni riga è nascosto un significato che ti compenserà mille volte dello studio necessario a chiarirtelo. Questo messaggio ha lo scopo di svegliarti alla comprensione di ciò che tu sei, del tuo sé reale, di renderti di nuovo conscio di me, del tuo divino sé, conscio in modo che mai più tu possa essere ingannato da quell'altro sé che tu hai immaginato fosse te e che così a lungo ti ha adescato, nutrendoti dei suoi piaceri dei sensi che non soddisfano mai con le sue dissipazioni mentali e con i suoi godimenti emozionali. Ma prima che ciò possa effettuarsi sarà necessario che tu conosca interamente questo supposto altro sé che tu creasti pensando lo reale e separato da me e mantenesti poi vivo dandogli il potere di lusingarti e di ingannarti. Sì, quel sé autocreato con il suo orgoglio, la sua ambizione, il suo potere immaginario puramente egoista, il suo amore della vita e delle cose, con il suo desiderio di essere reputato buono e saggio, ma che è soltanto la tua personalità, nata solo per morire, come entità separata e che, come tale, non ha realtà o permanenza maggiore della foglia, della neve o della nuvola. Tu sarai messo faccia a faccia con questo meschino sé personale e noi ne scopriremo con visione perfetta tutto il sordido egoismo, tutta l'umana vanità. E allora, imparerai se ti volgerai a me e mi interrogerai con fede semplice e con fiducia che sono io la parte infinita, impersonale di te, dimorante sempre dentro di te, che ti addita tutte queste illusioni della personalità, le quali per così lungo tempo ti hanno separato in coscienza da me, il tuo glorioso divino sé. Questa realizzazione verrà certamente se riconoscerai che questo messaggio viene da me e se ti risolverai di seguirlo. A te cui io ispiro questa determinazione, io farò sparire ogni illusione e tu mi conoscerai in verità. L'esercitare la tua mente in questa direzione di pensiero astratto non ti nuocerà. Anzi, è precisamente ciò di cui la tua mente ha bisogno. Poiché solo quando tu potrai afferrare ciò che io intendo, allorché ti sia presentato dall'esterno e sotto forma delle idee qui espresse. Tu potrai percepire ed interpretare esattamente la mia idea, allorché io te la ispirerò interiormente. Così io preparo la tua mente, perché tu possa adoperarla non ad acquistare maggior conoscenza terrena, ma perché tu possa ricevere e spargere la mia conoscenza celeste fra quelli che io condurrò a te per tale scopo. Così, con una invocazione a me, al tuo sé reale, al tuo Dio interno, può avvenirti questa realizzazione. Quindi procediamo affinché tu possa vedere la verità in questa esposizione e in tutte le cose, condizioni ed esperienze che possano venirti. Nel corso delle nostre considerazioni intorno al processo di sviluppo della mia idea, noi siamo giunti al punto in cui l'io sono di te manifestantesi nel corpo della tua anima immortale, ossia nell'immagine di pensiero creata dal mio pensare. È pronto ad entrare in una forma materiale, una forma adatta all'espressione terrena dei miei attributi. Questo cambiamento, da una forma mentale ad una materiale, si effettuò nel modo e col processo medesimo di tutta la creazione, cioè per mezzo del pensiero, ed è descritto letteralmente nella Bibbia dove si dice che io formai l'uomo con la polvere della terra e soffiai nelle sue narici l'alito della vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Debbo spiegare ancora ciò che avvenne. Il potere vivificante dentro la mia idea, la tua anima, procedette ad attirare a sé i vari elementi della sostanza terrena, la polvere, e a modellarli e plasmarli atomo per atomo, cellula per cellula, in ossa, tessuti ed organi. Secondo il modello dell'immagine e pensiero, componente il corpo della tua anima, formando così un rivestimento esterno finché la tua forma mortale divenne realmente manifesta ai sensi psichici del mondo esteriore, se non ancora agli occhi fisici. allora tu, il mio attributo, soffiasti dentro e poi nelle sue narici dall'interno l'alito di vita e facesti la tua prima apparizione sulla terra, quale essere umano tangibile divenuto un'anima vivente. ora la mia idea poteva esprimersi coscientemente per mezzo di un adatto strumento terreno contenente nel suo sé tutti i miei attributi, tutti i miei poteri e tutte le mie possibilità. Erano così manifesti tutti i vari strumenti per l'espressione terrena della mia idea e tu, essendo uno dei miei attributi, avevi naturalmente impero su tutti quegli strumenti, ossia avevi il potere di adoperarli all'occorrenza a tutti e ciascuno per la piena e completa espressione delle energie e delle possibilità tue, cioè del mio attributo. In questo modo, e per questa ragione soltanto, tu e i tuoi fratelli veniste ad umana espressione. Ma pur essendo in forma umana, la vostra espressione tuttavia era tanto impersonale che, quantunque semi coscienti, voi cercavate solo in me, dentro ispirazione e guida. Queste erano le condizioni in cui tutti svegliasti entrando nell'espressione terrena e ciò è chiamato stato edenico, ossia dimora nel giardino dell'Eden. Questo stato edenico rappresenta la fase celestiale della coscienza impersonale, ossia quello stato in cui tu eri ancora coscientemente uno con me, quantunque confinato in un veicolo mortale di espressione. Io non ti descriverò dettagliatamente come e perché divenne necessario che io cacciassi fuori dal giardino dell'Eden te, ora uomo o umanità. Ti ricorderò solo la parte che il desiderio ha nell'espressione terrena e la sua relazione con la mia volontà. Una volta che tu avrai risolto e compreso, almeno in parte, la ragione di questo, allora forse tu capirai la necessità della caduta della tua coscienza, cioè di quella dell'umanità, in un sonno profondo, essendo tu prossimo alla fine di un altro ciclo, detto giorno cosmico, e di trovarti al tuo risveglio non più esternamente uno, ma due. Una parte attiva, pensante, aggressiva, chiamata poi uomo, ed una passiva, sensitiva, ricettiva, una matrice umana, ossia una donna. E capirai pure la necessità che qualche influenza terrena venisse ad attirare la tua coscienza dalle delizie puramente celestiali a questa nuova condizione, perché tu potessi concentrarti sulla tua missione terrena, ossia sulla tua espressione mortale. Comprenderai la sapienza che generò questa influenza prima nella tua parte passiva, sensitiva e ricettiva, per mezzo del serpente della suggestione, forma che io feci assumere alla mia idea nella tua mente. E come nacque così il desiderio, la gente mortale della mia volontà, che doveva fornire l'energia motrice per l'ulteriore e completa espressione dei miei attributi sulla terra. E finalmente la necessità che il desiderio gettasse su di te, ovvero sull'umanità, il suo incanto. Che la natura celeste ed impersonale fosse tenuta da parte, come in sospeso, finché, per mezzo del libero ma ignorante uso del mio volere, tu potessi gustare e mangiare interamente il frutto del cosiddetto albero della scienza del bene e del male. Ed imparare così a discernere e conoscere bene quei frutti per ciò che sono realmente e ad acquistare la forza necessaria ad usare la scienza in tal modo acquisita saggiamente, perfettamente e solo per l'espressione della mia idea. Tu puoi forse ora similmente comprendere come gli occhi tuoi dell'umanità si aprirono alle cose della terra non appena assaggiato questo frutto e alla conseguente conoscenza del bene e del male. Come in seguito a ciò sparisse la conoscenza della realtà che è dietro di essi? E come e perché tu ti accorgesti di essere nudo della tua parte pensante e di quella sensitiva e anche perché tu avesti paura? Ora forse tu puoi capire perché tutto ciò dovesse accadere, perché tu, umanità, dovessi lasciare lo stato edenico della coscienza impersonale e perderti completamente in queste condizioni terrene per divenire capace di creare un corpo e sviluppare in esso una coscienza personale, un sé atto ad esprimere pienamente la mia perfezione. Così nacque la tua personalità umana e dalla sua nascita in poi ti ho spinto a nutrirla, mantenerla e rinforzarla, riempiendoti di brame, di speranze, di aspirazioni, di tutte le varie manifestazioni del desiderio, le quali sono soltanto gli aspetti umani della mia volontà operante a preparare e sviluppare uno strumento capace di esprimere perfettamente i miei attributi sulla terra. Così io ti cacciai fuori dal giardino dell'Eden, ti vesti di una veste di pelle o in altre parole di carne, come gli altri animali, poiché per poter entrare nel cuore delle condizioni terrene e così vivificare in espressione di vita attiva la mia idea, tu, mio attributo, dovevi possedere un organismo ed un involucro, vestimento adatto alle condizioni in cui stavi per manifestarti. Dando a te una veste di pelle, cioè un organismo fisico, io fornì pure alla mia idea una forma confacente all'espressione terrena. Ti diedi il potere di esprimerla per mezzo di un organismo fisico, per mezzo di parole. Nell'impersonale non occorrono parole, solo le idee esistono e si esprimono. Esse sono semplicemente, poiché sono l'espressione dei vari aspetti del mio essere, ma nella nuova condizione in cui ogni espressione negli stadi primitivi di esistenza esterna doveva avere forma e sostanza per essere udita, veduta, sentita, gustata o toccata, in modo che il suo significato potesse venire chiaramente appreso. Bisognava, naturalmente, provvedere un organismo capace di essere adoperato al doppio fine, di esprimere e di comprendere ciò che esprimeva. Man mano che la mia idea si sviluppava, dopo la tua espulsione dall'Eden, tu, uno dei miei attributi divini, dimorante dentro la mia idea di tale attributo o in espressione, idea dimorante a sua volta nell'immagine pensiero di me stesso e manifestantesi finalmente all'esterno nella forma terrena di parole, allorché ricevesti l'impulso della mia volontà sotto forma di desiderio ad esprimere il mio intento, tu, dico, cominciasti a crescere e moltiplicare rapidamente e nella tua ricerca delle condizioni più favorevoli alla manifestazione dei tuoi particolari attributi, tu ti spargesti a poco a poco su tutta la faccia della terra, risvegliando ed eccitando l'intelligenza latente in tutte le forme della vita con cui venivi a contatto, ad una più piena e più attiva espressione del loro particolare aspetto della mia idea. così si formarono le varie lingue della terra contenenti ciascuna molte parole, nate tutte dal desiderio della mente umana di esprimere in termini terreni gli infiniti aspetti della mia idea che sempre scaturiscono dall'interno. E quanto più la mente umana si sforzava di esprimere in parole la mia idea, tanto più grandi, miserevoli erano i suoi insuccessi. Verrà il giorno del grande risveglio in cui si vedrà che tutte le parole sono soltanto simboli di un'idea. E che tutte le idee di qualsivoglia natura non sono che aspetti di una idea, la mia idea di me stesso in espressione. E che ogni desiderio di esprimere in parole quell'idea, se non è ispirato unicamente dalla coscienza della mia volontà, è inconsistente. Così pure ogni desiderio di esprimere in azioni viventi quell'idea, senza perdere completamente la coscienza della tua personalità umana, della parte tua personale nell'azione, senza concentrare tutto il tuo sé in me, è vana ed infruttuosa e finirà solo nell'insuccesso, nel disinganno e nell'umiliazione.